Ublio Ovidio Nasone, noto semplicemente come Ovidio, nacque a Sulmona il 20 marzo 43 a.C. e morì il 17 o 18 d.C. a Tomi o Tomis, l'odierna Costanza, un municipio della Romania situato sulla sponda occidentale del Mar Nero, il più importante porto rumeno e il più grande porto sul Mar Nero. Nell'otto d.C. Ovidio cade in disgrazia presso l'imperatore Augusto e viene relegato nella lontana Tomis, sul Mar Nero, nell'attuale Romania. A questo proposito nei suoi Tristia scrive «Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore, del secondo debbo tacere le mie colpe». Tale vaga espressione ha favorito il proliferare di interpretazioni diverse, ma nessuna certezza. Ovidio è stato un poeta romano, tra i principali esponenti della letteratura latina e della poesia elegiaca. Fu autore di molte opere, il cui corpus è tradizionalmente suddiviso in tre sezioni. La prima, che si colloca tra il 23 a.C. e il 2 d.C., è rappresentata dalle opere elegiache di argomento amoroso e comprende gli amores, le eroides, epistule eroidum e il ciclo delle elegie a carattere erotico didascalico. La seconda, tra il 2 d.C. e l'otto d.C., è caratterizzata dalle metamorfosi e dai fasti di intonazione religiosa, mitologica e politica. La terza ed ultima sezione, compresa tra l'otto d.C. e la morte, avvenuta, come ho già detto, tra il 17 e il 18 d.C., include le elegie dell'invettiva e del rimpianto, Tristia, tristezze, epistule ex ponto, lettere dal ponto e ibis. Fu autore anche di altre opere, andate però oggi perdute, tra cui una gigantomachia e una tragedia, la Medea. Di grande importanza sono le odi, di cui oggi ci restano solo piccoli frammenti. La fama di Ovidio fu grande in vita quanto nell'epoche successive alla sua morte. Ne ripresero i temi o ne imitarono lo stile, tra gli altri, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto, Williams Shakespeare, Gian Battista Marino e Gabriele D'Annunzio. Inoltre, innumerevoli sono gli spunti che le metamorfosi hanno fornito a pittori e scultori italiani ed europei. A Sulmona, nel 1400, fu costruita una statua di Ovidio, citata da Edward Lear nei suoi diari di viaggio in Abruzzo, ora conservata nel museo civico archeologico Santissima Annunziata. Poi, nel 1925, una nuova statua monumentale venne realizzata e posta in piazza 20 Settembre, lungo il corso intitolato al poeta. Sulmona, l'antica Sulmo, che fu prima insediamento peligno e poi municipium romano dopo la guerra sociale, nonché Sede Vescovile, già nel 400, si trova al centro di una conca, cantata da Ovidio nelle sue opere per la sua feracità, ovvero fertilità, terra fertile di grano e molto più di uva. La storia della città, a partire dall'epoca medievale, si può riassumere come un'alternanza di momenti di fasto e di decadenza. Cogli Svevi fu capitale del giustizierato d'Abruzzo e sede di uno studium di diritto canonico equivalente a quello di Napoli, oltre che della prima delle sette fiere annuali che si tenevano in sette diverse città del regno di Federico II. Con l'avvento degli Angioini, perse le sue prerogative a favore dell'Aquila, ma ebbe per concessione del re di Napoli, la dislauda Gio Durazzo, il 2 settembre 1410, il titolo di città e di sigillo, in cui compare, in forma di acronimo, SMPE, l'emisticchio in cui Ovidio parla delle proprie origini, Sulmo Michi Patria Est, cioè Sulmona è la mia patria. Seguì poi le vicissitudini del regno di Napoli, prima infeudata la famiglia Lannoi, poi venduta al principe di Conca e infine ceduta ai principi borghese, e poi del regno d'Italia. Durante la seconda guerra mondiale, ebbe un ruolo strategico per la sua posizione a ridosso da Alina Gustaf e si distinse nella cosiddetta resistenza umanitaria.